ciao fra! fa il bravo eh! impressionanti oh! sono impressionanti questo sport di merda continuo a dirlo ma da 17 anni che lo continuo a fare hai capito? precisione con la moto però sai cosa che mi fa impazzire questa disciplina qua? che io vedo più ragazzini che crescono entusiasti ma che sono i primi a mollare bravo! bravo! mi chiediamo da gaming work sempre voglia che ti rispondo! invece loro vengono qua per cazzeggiare fare i video pubblicare i suoi soldi basta se chiedi a qualsiasi struttura di tennis di basket vanno tutti esaltati che vedono i video si esaltano tutti grazie grazie grazie